Il pallone consegnato a Pisarro, spazio per la conclusione, conclusione diretta all'angolino di sinistra questa volta per Gianluca Curci e Claudio Pisarro si conferma una sentenza contro squadre italiane. Nono gol in carriera sul 43 in Coppe Europee per il Peruviano, il quarto consecutivo nelle ultime quattro partite giocate in Italia contro Inter Milan Udinese e ora Samp. Nel secondo tempo supplementare ancora è solo Werner che ha più energie, conclusione sul palo di Marin, Arnautovic sbaglia il pareggio ma il 3-2 basta comunque ai tedeschi per arrivare in Champions League. Nel secondo tempo Nel secondo tempo Nel secondo tempo Nel secondo tempo